Sì, è razza, è bellissimo Da dove scende la scena? Io non mi sono belezza E come faccio? Allora, allora, allora Adesso ti passa, è vero che ti passano tutto avanti Sì E' nervosa, è nervosa E' nervosa E' nervosa E' nervosa Sì 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 No no alla mia situazione Siamo tutti. Allora, siete qui con farsi per la celebrazione del vostro matrimonio? Sì. L'avventura è l'articolo 143, 144 e 147 del Codice Civile. Articolo 143. Diritti e doveri reciproci dei codici. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Con il matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà all'assistente. Entrambi i codici sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze, studiando la propria capacità di lavoro professionale o per l'arico a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I codici compagliano fra loro il diritto della vita familiare e si servono conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Dichiara il signor, lo giudice Walter, di voler prendere in moglie la signora D'Agostino e Anna Rita, qui presente? Sì. Dichiara la signora D'Agostino e Anna Rita di voler prendere in marito il signor, lo giudice Walter, qui presente? Sì. I testimoni hanno sentito? Io, Manigro Alberto, sindaco ufficiale dello Stato civile del Comune di Bollarte, dichiaro in nome della legge che il signor, lo giudice Walter, la signora D'Agostino e Anna Rita, sono un'intima demone. Grazie. Grazie. Allora, l'anno, l'8 dicembre 1961, artigiano, residente in Bollarte, cittadino italiano, D'Agostino e Anna Rita, stati utenti documenti risultando di nulla ostare alla celebrazione del matrimonio, ho letto agli sposi di articoli 143, 144 e 146 del Comune civile, quindi ho domandato allo sposo se intende di prendere in moglie a qui presente la cortina marita e a questa se intende di prendere in marito a qui presente lo giudice Walter. Ed avendo tutto questo atto sono stati presenti tra i testimoni, Forziani e Mandela, anche in Bollarte, con i creduti non avevano raggiunto, regolati dal 17.692 al 28.692, gli sposi e la presenza degli stessi testimoni non hanno dichiarato di scegliere il regime di separazione di femmini a norma dell'articolo 266. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.